Ed eccoci e come promesso adesso trovate anche il video del Tutuon Confab. Qui di seguito troverete appunto il QN, il QN formato da queste 12 tecniche che abbiamo lavorato. Le possiamo, come abbiamo visto, lavorare a coppie come vanno correttamente fatte, ma anche nel lavoro individuale. Il lavoro individuale ci permette quindi di arrivare al lavoro del QN più facilmente, perché come poi andrete a vedere all'interno del QN, le 12 tecniche sono praticamente identiche a come vado a farle e ad applicarle con il compagno. Buon lavoro, seguite il video, nei link ovviamente trovate sempre tutti i video precedenti che riguardano questo argomento. Quindi trovate i video delle tecniche base e i video delle tecniche coppie. Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.